Oggi presentiamo questa rassegna che abbiamo realizzato insieme all'Ordine Provinciale degli Ingegneri di Pesaro Urbino che ci hanno coinvolto per organizzare una serie di appuntamenti legati alla storia, alla cultura e soprattutto all'infrastruttura della nostra provincia. Quindi non solo Pesaro ma anche altre città, tra cui Fano, Fossombrone, Urbino, Cagli, che sono appunto poste sotto l'attenzione di questo sguardo particolare degli ingegneri che vogliono approfondire la parte storica ma nello stesso tempo anche la parte delle vicende che hanno riguardato le più importanti infrastrutture del nostro territorio. Questa è una rassegna che si rivolge non a un pubblico soltanto specialistico degli ingegneri ma anche a tutto il pubblico che può essere interessato a conoscere meglio e anche a scoprire qualcosa di nuovo e che appunto vuole approfondire la propria storia, il proprio passato con uno sguardo comunque sempre rivolto al futuro come poi dimostra anche l'ultimo appuntamento di questa rassegna che si occuperà di astrofisica quindi veramente con un occhio veramente attento al futuro che ci aspetta. È una rassegna culturale che ha voluto fortemente il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri da me presieduto ed è un'iniziativa che volta alla conoscenza del territorio, un'iniziativa che ovviamente abbiamo avuto la grandissima collaborazione da parte di Dentro Olivieri che ringraziamo perché ovviamente ci ha dato tutto il supporto necessario perché questa iniziativa insomma potesse avere luogo e soprattutto è un'iniziativa che ha ottenuto comunque il patrocino già del Comune di Peso, dei diversi comuni perché sarà un percorso itinerante nell'ambito del territorio e abbiamo avuto anche il logo di Peso 2024, Città Italiana della Cultura. È voluta fortemente perché ovviamente noi siamo un ordine provinciale, rappresentiamo un territorio quindi gli eventi si svolgeranno principalmente nei tre diversi luoghi rappresentativi della nostra provincia Fano, Urbino e Pesaro. Si parlerà soprattutto di temi che sono legati al nostro patrimonio storico, culturale e anche a quelle che sono tutte anche tra virgolette la salvaguardia del nostro patrimonio. Questa è una di quelle attività che noi organizziamo ormai da un po' che ha proprio la volontà di arrivare sempre a più persone anche quelle che di solito non frequentano le attività culturali o le conferenze oppure frequentano poco gli ambienti della cultura ma che possono essere però incuriositi proprio perché c'è una modalità diversa del racconto e nel farlo abbiamo sempre presente quello che è stato il lascito testamentario del nostro fondatore di Annibale Olivieri che appunto ha lasciato tutte le sue collezioni alla città di Pesaro, alla comunità perché i cittadini fossero sempre più culti ed operosi e noi proprio secondo questa sua volontà cerchiamo di organizzare le nostre iniziative.